Ma cosa c'è che non va? Questa volta ci licenziano. Perché? Perché non sappiamo usare il computer e con Infostrada si può navigare gratis in Inter. E allora? Allora, siamo gli unici testimonials che non conoscono il prodotto che pubblicizzano. Facciamo finta allora. Una bugia, Mike, dai. Ma chi se ne frega? Vuoi perdere il posto? No. Scegli Infostrada e navigi gratis fino al 2009. Ma cosa fai? Chatto. Con chi? Con Silvestro, lo conosci? Chatto Silvestro? Chiama il 159.